Nessuna delle due. La scuola di Antiochia fu fondata nel 312 in opposizione alla scuola di Alessandria e al suo metodo allegorico di interpretazione delle scritture. Il metodo esegetico antiocheno è più attento al senso letterale dei testi ma non rifiuta la ricerca di un senso spirituale più profondo. Ha ragione la scuola di Antiochia o la scuola di Alessandria? Commento. Nessuna delle due perché sono entrambe figlie della mente e lontane dalla maggiore scuola della coscienza.